Il mio tradizionale bentrovato al pubblico di Blog Sicilia per questo nuovo appuntamento con Talk Sicilia. Continuiamo la sequenza di interviste che abbiamo intitolato Palermo verso il suo futuro, un giro di interviste agli assessori della Giunta Comunale che si è insediata ormai da qualche mese ai quali chiediamo di spiegarci qual è la visione dei Palermo che hanno di Palermo per il prossimo futuro immediato ma anche quello un po' più avanti nel tempo, anche perché sono tante le cose che si possono fare subito ma alcune hanno bisogno di più tempo e certamente bisogna avere una visione della città per poter cominciare a costruire qualcosa di diverso rispetto a quello che abbiamo visto fino ad ora. E oggi è il nostro ospite in studio, ha accettato il nostro invito, di questo lo ringraziamo l'assessore Totò Orlando, assessore che per verità abbiamo definito assessore dei lavori pubblici ma in realtà di delega ne ha molte altre. E come sempre quando parliamo di Comune di Palermo, alla mia sinistra il collega di Blog Sicilia che si occupa di seguire la comunale Pietro Minardi, Pietro buonasera. Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio assessore, buon pomeriggio a Mario. E allora cominciamo da qua, evidentemente l'assessore Orlando ha in carico alcune delle emergenze principali della città, quindi inevitabilmente dobbiamo cominciare da quelle e indovina qual è la prima che la chiedo? Cimitero. Ecco qua, l'assessore è preparato, sapeva che lei aveva chiesto del cimitero. Allora la situazione del cimitero chiaramente è quella che sta più a cuore ai palermitali in questo momento, anche se ce ne sono a cuore molte altre, ma quella del cimitero chiaramente è un'emergenza che continua. Cosa si sta facendo e qual è la situazione attualmente? Ecco, ho provato a indovinare perché diciamo per quanto ci riguarda e per quanto mi riguarda la prima emergenza da affrontare è quella cimiteriale in questa città. L'abbiamo affrontata sin dalla prima giunta, quindi non era a tirare ad indovinare, ma era un sentire comune che abbiamo tutti ed è quello di provare a risolvere questa vicenda che è veramente complicata da un lato e vergognosa dall'altro. Io dico sempre che tutte le città italiane, soprattutto quelle del sud, hanno grosse difficoltà nell'affrontare i bilanci, le manutenzioni, la gestione ordinaria, ma credo che una vicenda come quella del cimitero di Santa Maria dei Rotoli non è uguale né nel sud Italia né in Italia e credo in nessuna parte del mondo. Quindi è una vicenda su cui siamo impegnati giornalmente, abbiamo messo in campo una sede iniziativa, stiamo cercando di scollinare, di trovare la soluzione definitiva che come diceva bene il direttore all'inizio è affrontare l'emergenza ma guardando anche al futuro. Quindi diciamo misure che vanno nella direzione del decoro del cimitero, principalmente dare degna sepoltura alle quasi 1200 bare che sono nei depositi del cimitero e poi comunque pensare a come strutturare i cimiteri in questa città. Per esempio la prima cosa che mi viene in mente chiaramente bisogna pensare al cimitero del futuro, quindi al nuovo cimitero, ma là i tempi saranno più lunghi, però ci state pensando? Contestualmente all'affrontare l'emergenza stiamo pensando a come trovare la formula di ampliare gli esistenti o costruire un nuovo cimitero, su questo diciamo serve una discussione leale e corretta con il Consiglio Comunale, serve mettere in campo strumenti di programmazione e quindi fonti di finanziamento, lo vogliamo fare insieme al Consiglio Comunale e insieme alla città perché Palermo deve cambiare anche nel metodo oltre che nel merito, diciamo il frutto di quello che siamo, il frutto di scelte e di visione passate e oggi dobbiamo avere un'altra impostazione, l'impostazione deve essere quella di governare i processi in condivisione con le forze politiche, con le forze sindacali, con le categorie e con la città. Bene, un processo quindi condiviso e questo sicuramente è positivo in vista delle soluzioni, però occorre cominciare a pensare proprio a che cosa si farà e in che tempi e da questo punto di vista Pietro ci può venire incontro con una serie di temi che riguardano il cimitero di oggi, quali sono Pietro? Allora intanto l'emergenza cimiteriale secondo me si sfaccetta in più, mini emergenze l'assessore sicuramente concorderà con me, tra questa c'è quella delle cremazioni, il vecchio forno crematorio e K.O. a marzo compirà tre anni, l'ultima volta in cui ha funzionato, come sta andando il processo di revamping e la situazione della parte alta del cimitero dei Rotoli che per ora è immersa in mezzo al verde la riserva di Monte Pellegrino, c'è il tema della rete, del collaudo della rete anticaduta Massi, ci sono fatti dei progressi? Allora andiamo per ordine, forno crematorio, il forno crematorio esistente non funziona dal marzo del 2020, il comune aveva messo in campo tre progetti, la rimessa in funzione di quello esistente, un revamping complessivo con un minimo ampliamento e la costruzione di un nuovo tempio crematorio. Il dato è che ad oggi non ce n'è uno nell'altro, noi abbiamo affidato un lavoro, abbiamo fatto una delibera a luglio, affidato a un'azienda i lavori i primi di settembre, all'interno di questo accordo quadro c'è previsto anche la riattivazione del vecchio forno, abbiamo avuto un leggero rallentamento perché strada facendo ci siamo accorti che mancava qualche autorizzazione già al vecchio impianto e quindi siamo in fase di acquisizione delle autorizzazioni ambientali e un minuto dopo saremo pronti a consegnare il nuovo forno, la funzionalità del vecchio forno crematorio all'utilizzo della città. Tempi previsti così? Allora i tempi previsti, da quando avremo l'autorizzazione i tempi previsti sono 4 settimane di lavorazione, quindi diciamo un processo anche relativamente breve e poco costoso rispetto al tema. Quindi gennaio, massimo febbraio avremo funzionante? Se riusciamo ad avere le autorizzazioni nel mese di dicembre del 2022 a febbraio 2023 potremmo avere il forno funzionante, ma tutto è subordinato alle autorizzazioni e al percorso autorizzativo che stiamo, ci stiamo, ci sono dei funzionali bravissimi che stanno seguendo la vicenda giorno per giorno. Diamo una notizia, quello nuovo è stato il nuovo tempio, abbiamo accantonato l'idea di revamping, diciamo quello che consentiva… Revamping che ci sconta significa la ristrutturazione complessiva con l'ampliamento. Allora, il ristrutturato è perfetto, il cosiddetto revamping era la ristrutturazione… Sì, lo dico perché magari non conosce il termine… Siccome Pietro ha parlato di revamping perché nelle delibere si parlava di revamping, quindi la definizione è perfetta quella del direttore. Quella l'abbiamo accantonata perché puntiamo alla realizzazione del tempio crematorio nuovo, il Consiglio Comunale nel maggio del 2022, prima di chiudersi quell'esperienza, ha approvato la variante urbanistica, credo che bisognerà aggiornare il progetto sui costi perché abbiamo un progetto definitivo, passeremo all'esecutivo, da lì a qualche… spero che entro il 2023 quel progetto possa andare in gara e quindi da lì poi si conteranno… Siamo nella fase di progetto definitivo, dovremmo fare il progetto esecutivo, credo che quella previsione di spesa di 2 milioni e 700 mila euro con fondi accantonati nel bilancio comunale non basteranno perché tra i nuovi preziari regionali e l'aumento dei costi del materiale di cui diciamo giornalmente veniamo a conoscenza non consentiranno di completare quell'opera e quindi dovremmo trovare qualche altra fonte di finanziamento, purtroppo è così. Io dico sempre… E poi dalla gara quanto ci vorrà? Ma io credo che il progetto, la lavorazione del progetto non sarà più di 18 mesi, quindi diciamo dall'affidamento dei lavori 18 mesi per la consegna. Speriamo 2025 e il nuovo tempo. È bene dire a tutti che noi affrontiamo una condizione emergenziale con norme diciamo normali, quindi fino a quando per fare le gare, per fare le variazioni di bilancio, fino a quando dovremmo rispettare le norme e non fa il paio con l'emergenza che c'è al cimitero dei rotoli. Anche su questo stiamo lavorando per capire se possiamo venire in possesso o quantomeno essere autorizzati ad accelerare delle procedure. Sulla parte alta del cimitero? Spero che entro qualche giorno si possa intervenire perché siamo finalmente in possesso del collaudo tecnico e quindi diciamo questo ci consentirà a breve di intervenire sulla famosa area interdetta e quindi intervenire su quei campi di inumazione che consentiranno di avere qualche posto in più e quindi dare sepoltura a chi ha chiesto di essere inumato. Mario, mi consenti un'ottima domanda? Ma certo. Sul progetto il nuovo cimitero l'area individuata rimane sempre quella di Ciaculli oppure si sta pensando a una nuova locazione? Ad oggi l'area è quella di Ciaculli. Su quest'area c'è una discussione molto accesa. Noi siamo disponibili ad affrontare l'eventuale trasferimento dell'area, diciamo non ci impicchiamo su Ciaculli o su Sferracavallo o su un'altra area. Riteniamo che se l'amministrazione, il Consiglio Comunale decide di costruire un nuovo cimitero lo debba fare in un'area che sia facilmente raggiungibile, senza vincoli e che possibilmente non ci comporti eccessivi costi per gli esplutri. Scusa, se si deciderà di fare un nuovo cimitero va bene le scelte condivise, ma non credo che ci sia una soluzione diversa. Non mi pare che l'attuale cimitero sia in grado di ampliarsi in base alle esigenze della città che cresce. Noi abbiamo tre cimiteri, due sono considerati due cimiteri, credo due gioielli, credo che non abbiano nulla da invidiare ai cimiteri privati. Quello dei Rotori è un cimitero invece che è stato abbandonato, che è stato gestito male, nel quale sono state inumate le salme con le bare con lo zinco e quindi questo non hanno consentito una naturale rotazione delle salme. Quindi ci sono una serie di errori strategici, è ovvio che serve un'altra area. Ora che sia un ampliamento degli esistenti, che sia un nuovo cimitero, sta alla scelta e alla volontà del Consiglio Comunale. Noi sottoporremo le varie soluzioni. Però voi avrete un'idea. Noi stiamo lavorando a due ipotesi, quella della costruzione di un nuovo e quella degli ampliamenti degli esistenti. Quindi diciamo fatti le valutazioni, i costi e i benefici, al Consiglio Comunale sottoporremo le due soluzioni. Anche qua, idea dei tempi possibili, perché la città vuole sapere quando si risolverà il problema. Noi abbiamo l'impegno, prima possibile dobbiamo seppellire le 1200 bale, le 1200 salme, che sono persone che stanno nei capannoni. Quello è l'obiettivo primario. Contestualmente stiamo lavorando a tutto il resto. Abbiamo in itinere l'aggiornamento del piano cimiteriale, abbiamo in itinere la predisposizione del bilancio, del nuovo piano regolatore. Quindi tutte queste misure troveranno sintesi e convergenza negli strumenti di programmazione. Bene, già metà della nostra trasmissione è andata via soltanto parlando di cimitero. Quindi Pietro, forse è il caso di passare ad altri argomenti. È chiaro che l'assessore ha deleghe parecchio pesanti, mi è stato già detto, in sede di insediamento dell'aggiunta. Quella chiaramente più importante è quella dei lavori pubblici. Quindi ovviamente i cantieri che interessano il capoluogo siciliano. Fra questi sicuramente c'è il collettore Fognario, che è un'opera che sta interessando diversi punti strategici del capoluogo siciliano. Fra cui c'è ovviamente l'area di Via Guardione e l'area di Piazza della Pace, che sono fra le principali, quelle più in ritardo. Ecco a che punto è il cantiere da questo punto di vista. Stemperiamo un attimo il clima perché si fa pesante quando si parla di queste cose al cimitero e soprattutto l'assessore, lo diciamo senza critica, ma semplicemente per scherzare un attimo, è arrivato leggermente in ritardo oggi e noi scherzando dicevamo forse in ritardo con i suoi cantieri. Diciamo mi adeguo all'andamento dei cantieri. Quello dei ritardi dei cantieri diciamo che è una questione non solo palermitana, è una questione diciamo complessiva, soprattutto diciamo come vedete anche enti diversi al comune di Palermo, il comune di Palermo diciamo come sempre poi si rende speciale, noi abbiamo questo benedetto sistema cala di cui parlava Pietro che è il collettore che per ora sta interessando, Piazza della Pace e Via Roma, poi abbiamo chiuso questo famoso pozzo di Via Roma con angolo Via Mari, resta quello di Via del Guardione dove la talpa sta lavorando per raggiungere diciamo il pezzo di collettore già completato e pensiamo prima di Natale chiudere Piazza della Pace con il bypass dall'altro lato di Via Crispi, è un'opera che è a buon punto, anche quella diciamo soffre la difficoltà dell'aumento prezzi perché è un'opera che vale intorno ai 25 milioni di euro, è in stato quasi di completamento ma credo che da qui a giorni serviranno da 2 a 3 milioni di euro per completare l'opera perché l'aumento dei costi, il ritardo degli anni ha consentito di mandare in sofferenza le imprese, quindi anche su quello siamo impegnati a concludere con i fondi che abbiamo a disposizione, proprio in questi giorni abbiamo fatto partire una richiesta di ulteriore finanziamento, all'assessorato regionale, all'economia, all'energia che è cofinanziatore dell'opera. Appena detto Via del Guardione immediatamente mi è venuta in mente un'altra opera lì vicino, doveva durare un paio di mesi, doveva essere già concluso il cantiere invece del sottopasso. Allora sul cantiere del sottopasso diciamo dobbiamo chiedere scusa perché c'è stato un errore di comunicazione, il cantiere è stato consegnato a fine agosto, prevedeva una lavorazione di 60 giorni in un in primo momento i tecnici avevano optato per lavorare i primi 30 giorni a sottopasso chiuso, i secondi 30 a carreggiata semi aperta, diciamo con una sola carreggiata aperta. Durante i lavori si è scoperto che possibilmente per un errore di calcolo la parte di intonaco che doveva andare in lavorazione era il doppio di quella per cui si era fatto il progetto e quindi diciamo non rispetteremo i termini dei 60 giorni ma rispetto all'aumento dei costi andremo 10-12 giorni in più, speriamo di consegnare l'opera a ridosso della festa dell'Immacolato. Per poi andare sull'altra corsia? L'altra corsia diciamo dobbiamo completare il progetto perché parliamo di un accordo quadro, dobbiamo fare il progetto esecutivo e l'appalto per l'altra opera e lo faremo sicuramente dopo le feste di Natale per non diciamo mandare in sofferenza. Anche perché quell'area è interessata da un afflusso di traffico notevole, tanto che sono stati nominati lo scorso anno questi mobility manager che però sono rimasti un po' nell'ombra. Il tema dell'altra carreggiata è un po' più complesso perché diciamo ha meno sfogo rispetto a quella direzione Cala, da qua abbiamo aperto via Roma con il bypass da Corso Tucori, diciamo il sovrappasso, la rotonda di piazza 13 Vittime ci aiuta ma in direzione Fiera c'è solo l'imbuto della strada laterale che costeggia il sottopasso, quindi anche lì dovremmo capire come fare, farlo in tempi più rapidi prevedendo anche la lavorazione lotturna. L'altro grande tema, Palermo è la città dei ponti, dei ponti che sono in sofferenza, un po' tutti, chiaramente il simbolo principale è il Ponte Corleone ma non soltanto. Sul Ponte Corleone possiamo dire che grazie alla nomina del commissario governativo dell'ingegnere Castiglioni il comune ha già messo nelle sue mani la prima tranche di finanziamento che vale intorno a 10 milioni, 7 li sta utilizzando per consolidare la carreggiata direzione Catania, già i lavori sono in corso e in fase di progettazione esecutiva l'intervento sulla carreggiata direzione Trapani, ma la notizia che possiamo dare e che diciamo è incoraggiante è che abbiamo con il comitato di sorveglianza che rimodula i fondi per il patto per Palermo abbiamo già fatto una proposta ed è stata approvata in prima battuta dal comitato ma deve passare dalla cabina di regia istituita presso il Ministero del Sud e fa capo al Ministro Fitto, deve passare da lì per avere il via libera definitivo, abbiamo reperito i 24 milioni 150 mila euro che servono per il raddoppio per le due famose bretelle laterali. Il commissario aspetta questa formalizzazione, diciamo questo trasferimento di somme e avvalendosi di ANAS interverrà in maniera veloce perché ANAS si avvale di accordi quadro nazionali che consentiranno di fare l'appalto in poche settimane, quindi prima chiudiamo l'accordo, prima diamo i soldi all'ingegnere Castiglioni e prima ANAS interverrà. Ci proviamo a ipotizzare quanto tempo ci vorrà? Il progetto che è stato fatto su incarico del comune prevede sei mesi di lavorazione, è un ponte in acciaio, io non sono eccessivamente ottimista ma dico che è un'opera che può essere consegnata alla città da 12 a 14 mesi, quindi se riusciamo ad assegnare la gara entro febbraio del 2023 e nella primavera, prima dell'estate del 2024, Palermo può avere il raddoppio del Ponte Corpeore. Insomma andiamo sempre da Avers, fra il 2024 e il 2025 si dovrebbero realizzare molte cose in questa città, evidentemente questi sono tutti appunti che prendiamo perché se così dovesse essere già sono auspiti. Noi lavoriamo per rispettare la tabella di marzo, è ovvio che quello che dipende da noi l'impegno è massimo, io credo che le cose si possono fare, bisogna starci di sopra, bisogna seguirle, Noi stiamo seguendo anche con molta attenzione i cosiddetti grandi cantieri che in questa città, di cui si parla poco, tranne che per i disservizi che hanno causato, parliamo dell'anello ferroviario e del passante ferroviario, due opere che se completate cambieranno il volto della mobilità in città insieme al tram. Considerate che il passante ferroviario che è un'opera del comune, data in concessione ad FRI, convenzione, ha 25 fermate nel centro della città, diciamo in città, su un percorso di 30 km, è una vera metropolitana. L'anello diventerà un ulteriore fattore di mobilità importantissimo perché farà dal porto alla fiera a Notarbartolo, diciamo con questo anello che farà poi, diciamo che incrocerà il tram da un lato e il passante dall'altro. Ma professore, però io le devo dire che io di questo progetto l'ho visto per la prima volta, ero un giovane cronista, la prima volta che ho visto questo progetto, sto diventando un cronista anziano, anzi quasi lo sono, e ancora non se ne vede nulla. Allora, io sul passante non sono d'accordo, il passante è già in funzione. Sì, 4 o 5 fermate? No, 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 sono molte di più, c'è un problema di informazione, le fermate sono molte di più, Notarbartolo sarà consegnata a breve, diciamo, il riammodernamento, l'altro binario. C'è il tema di Vicolo Bernava che rallenterà un poco, ma finito Vicolo Bernava, vedete che questa sarà un'opera importantissima, consentirà di andare da Roccella in aeroporto in 30-35 minuti, quindi cambierà il botto della città. Purtroppo il tempo è praticamente finito, avevamo ancora da parlare di... Ci sarebbe Pontoretto, se mi date la possibilità vi dico che anche su Pontoretto entro dicembre appalteremo l'opera. Ah, entro dicembre l'opera sarà appaltata a Pontoretto, questa è un'ottima notizia, chiaramente l'assessore tornerà perché dobbiamo fare un altro altro. Quando volete. Grazie a Pietro Minardi che è stato con noi, grazie all'assessore Totoro che ci ha raccontato di queste speranze, diciamo così, grazie soprattutto a voi che ci avete seguito anche in questo appuntamento e vi rinnovo per il prossimo Talk Sicilia. Arrivederci. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS